Non ci sarà alcun costo aggiuntivo per i residenti nelle aree maggiormente colpite dall'alluvione della scorsa settimana. Al contrario, Aset continuerà a garantire la raccolta del materiale danneggiato ingombrante anche nei prossimi giorni. Lo ha confermato oggi il presidente dell'azienda fanese che gestisce anche la raccolta di rifiuti. La garanzia del servizio gratuito è destinata ai cittadini che abitano in via degli Schiavoni, in via Fratelli Zuccari, via Dante Lighieri e via L'Adriatico, ai quali Aset chiede solo di accantonare tutto il materiale a bordo della strada con l'obiettivo di consentire operazioni di recupero e smaltimento più veloci. La presidente Lucia Capodagli ha sottolineato che Aset, in accordo con l'amministrazione comunale di Fano, si è attivata subito per garantire supporto ai residenti delle zone maggiormente colpite da mareggiati e allagamenti, con un impiego straordinario di uomini e mezzi vista la gravità della situazione. E a cinque giorni dall'eccezionale ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'intera provincia, in particolare le città della costa, l'attività di pulizia delle strade dai detriti prosegue senza sosta, in particolare lungo tutto il tratto costiero di via Fadi Bruno a Marotta, mentre in collaborazione con la protezione civile sono state utilizzate pompe idrovore per lo svuotamento dei garage allagati. I lavori di ripristino sono iniziati anche in via Leruggieri, che rimarrà comunque chiuso al traffico per diverso tempo. Intanto il Comitato Lebreccia ha presentato un ennesimo esposto, in cui denuncia il degrado ambientale, il pericolo di incolumità pubblica, danni verso opere pubbliche e private e il non rispetto della salute. In particolare fa riferimento alla mancata trasformazione delle scogliere da sommerse ad emerse e al ripascimento con ghiaia. Secondo il Presidente Mauro Ginesi, la tragedia che si è verificata nelle giornate del 5 e 6 febbraio scorsi era annunciata e da diversi anni le autorità competenti, Regione Marche e Comune di Fano, avrebbero dovuto intervenire, ma a causa di continue ripicche tra gli enti si è arrivati a questo. Ora, ha detto Ginesi, dopo le lungaggini burocratiche, le indifferenze e le superficialità, chiediamo che vengano date risposte e che in tempi brevi si attuino i necessari e urgenti lavori per il rischio idrogeologico. Il Comitato Lebreccia incontrerà i cittadini della zona interessata dal maltempo giovedì 12 alle ore 21 alla parrocchia Gran Madre di Dio.